260.000 malati di Parkinson in Italia, 20-25.000 solo in Veneto, con circa 2.000 nuovi casi ogni anno. Se la popolazione che invecchia a fomentare il numero delle patologie neurodegenerative migliora l'assistenza sia sul fronte delle cure, sia su quello della riabilitazione per garantire qualità di vita a pazienti e famiglie. Saranno usati per tentare di mettere a punto un percorso integrato i 4 milioni di euro assegnati dall'Unione Europea e l'Università di Padova, capofile del progetto il Dipartimento di Neuroscienze e il Padova Neuroscience Center. Quello che accade oggi è che non c'è una reale integrazione tra l'attività dello specialista dell'ospedaliero universitario e i medici in medicina generale, gli infermieri, i fisioterapisti. Noi cercheremo di sviluppare delle linee guida e delle percorsi, sfruttando l'esperienza di nazioni che in questo sono un po' più avanti di noi. E soprattutto l'Olanda ad aver creato in questi anni, anche grazie alla collaborazione di grandi aziende private, un modello di assistenza che integra la visita periodica dello specialista con un percorso di riabilitazione fatto a casa o nei distretti del territorio. Il progetto Padovano, che dura 4 anni, punterà a formare personale, medici, infermieri, fisioterapisti e ad aumentare la tecnologia con sensori, uno è simile a un orologio, che saranno usati dal paziente direttamente a casa. Questo ci consenterà di poter gestire e di utilizzare queste tecnologie che ormai sono abbastanza diffuse per poter monitorare anche lo stato psicofisico della persona e soprattutto quanto si muove poi effettivamente la persona nella propria casa, nella propria area domestica. L'obiettivo è quello di fare in modo che pazienti e famiglie possano entrare a far parte di una vera e propria rete di cura in cui saranno fondamentali anche le associazioni dei malati.